Allora, Juve è una squadra troppo forte, uno dei migliori al mondo. Ho imparato se sbagli una volta fanno gol, sbagli due volte fanno gol. No, anche Sampdoria è una squadra forte. Noi dobbiamo fare una buona partita, dobbiamo fare la fase difensiva insieme, la fase difensiva insieme, poi speriamo bene. Sì, mi piace, è un allenatore molto bene anche come persona, abbiamo lavorato bene in campo, lui è stato molto chiaro su quello che vuole. Sì, noi crediamo e naturalmente vogliamo restare in Serie A, certo. Domenica si gioca alle 12.30, è un orario un po' particolare, cambia qualcosa? Secondo me non cambia nulla, noi andiamo al massimo in ogni partita, ogni allenamento, sì, non cambia nulla. Abbiamo bisogno del vostro sistemio, spero di vedervi allo stadio contro Sampdoria, domenica 12.30 e forza Palermo sempre.